Trasferta sul campo di Tarcento per l'Aviano Basket dopo la vittoria della settimana scorsa contro l'Humus Sacile ma è la squadra di Andriola a partire meglio con questa tripla di Degano prova però l'Aviano Basket a giocare in velocità in transizione con Severino che trova questa bella penetrazione poco dopo bel canestro in uno contro uno dal post basso di Fabio Pivetta e vedete il gioco spumeggiante della squadra di Dario Starnoni finalizzato in questa occasione da Maki Bombenco questo bel jumper in transizione della linea del tiro libero prova Noselli ad accorciare ma è più 5 per Aviano al termine del primo quarto parte ancora con una tripla di Degano Tarcento nel secondo periodo Davide Galli si sblocca dalla lunga distanza zona allora per coach Andriola l'attacca bene in un primo momento la squadra di coach Starnoni altra tripla per Galli ma inizia lo show di Andrea Mosnich tripla difficilissima per il numero 7 che si ripete qualche istante dopo vedete con la mano in faccia di Severino e ancora Mosnich altra tripla 3 in fila per lui inverte totalmente l'inerzia della partita con questa bella penetrazione di Guadagni che manda Tarcento al riposo sul più 4 parte malissimo Aviano nel secondo tempo bello questo contropiede di Guadagni su palla recuperata errore di Severino altra palla persa in confusione l'attacco di Aviano contro la zona di coach Andriola altro contropiede qui finalizzato da Noselli time out per Starnoni che prova a scuotere la squadra arriva a questo bel canestro di Gaglianone ma è ancora Mosnich a spezzare letteralmente le gambe di Aviano con questa tripla impossibile poco dopo altra tripla per Tarcento con Noselli Tarcento vola sulle ali dell'entusiasmo altra tripla ancora per Mosnich in apertura di quarto periodo ancora sempre Mosnich con questo step back sprofondo addirittura fino al meno 24 l'Aviano basket con questo contropiede di Scagnetti e l'Aviano prova nel finale a rientrare in partita con Tarcento in controllo ma davvero non ce n'è riesce a rosicchiare qualche punto con questo bel canestro di Riz e questo tiro da due punti di Galli meno 14 per l'Aviano basket alla prima sconfitta stagionale prima cosa che mi viene in mente probabilmente ci siamo montati la testa dopo aver vinto contro Sicile 77 a 63 per Tarcento 19 per Mosnich 13 per Davide Galli